Sono Benedetta Gargano, sono napoletana, sono una sceneggiatrice televisiva, faccio questo mestiere oramai da quasi 15 anni, lavoro per una nota soppopera partenopea e sono una food blogger. Ho aperto nel 2011 un food blog che si chiama La Gastronomica Volantista Nislavski. Il mio blog è nato in un momento in cui il panorama era già saturo, per cui ho cercato di variare un po' la formula rispetto agli altri food blogger. Quindi a ogni ricetta è abbinata in maniera abbastanza pertinente una recensione di un libro, una recensione di una serie tv, dato che sono una sceneggiatrice o un piccolo racconto comico che a volte attinge anche alla vita coniugale. Nella vita reale faccio la sceneggiatrice, che è una cosa abbastanza impegnativa perché lavorando per la lunga serialità i tempi sono molto serrati, per cui diciamo che la mia vita si divide fra la vita aziendale, quella che trascorro in Rai e poi invece la vita più creativa, insomma l'aspetto più creativo e più libero che quello legato al blog. Le tre parole per definire il mio blog sono allegro, curioso e ruspante. L'ultimo libro che ho letto è Il posto di Ognuno, di Maurizio De Giovanni, che è un giallista napoletano. Devo dire che questa è stata una lettura tardiva perché con il classico preconcetto di chi non ama leggere gli scrittori della sua stessa città non avevo mai letto la serie del commissario Ricciardi. L'ultimo blog che ho letto, oggi in diretta dal Salone, è il live blogging di The Chef is on the Table, del blog di Fabrizio Marie Claire. Un sogno da realizzare nel web è riuscire ad avere molti più lettori di quelli che ho, ma devo dire che questo è un mio problema perché io sono una scrittrice incostante, dovrei incrementare il numero dei miei post e forse crescerebbe di molto anche il numero dei lettori che è comunque cospicuo. Un sogno da realizzare nella vita? No, troppo scontato? Vivere una vita serena? Penso che sia la cosa da augurarsi sicuramente. Alla vostra. Bevo anche per questo.